L'ultimo l'hanno ammazzato la settimana scorsa, Lepuma, Epifanio Lepuma si chiamava, era di Pecialia, qui, un paese delle Madonie. E da quando è finita la guerra che non ci danno più cegua, il primo fu Andrea Arraia, l'ammazzarono il 6 agosto del 44 a Casteldaccia, poi ci fu l'attentato alle Caose a Bell'Alba, non si è passafiume, l'ammazzarono a Ciavia, Agostino D'Alessandro e Pietro Macchiarella a Figarazzi, Giuseppe Scalia a Cattolica Eraclea, poi ammazzarono a Guarino, il sindaco di Favara e il sindaco di Naro Pino Camilleri. Ad Alia nel 46 buttarono la bomba nella Camera del Lavoro, mentre c'era l'Arginione e ammazzarono Giovanni Castiglione e Girola Moscaccia, Giuseppe Biondo l'ammazzarono a Santa Ninfa, Paolo Farina a Comitini, Nicolo a Zoti, a Baucina, Leonardo Salvi e Giuseppe Casarubea a Partinico, Noncio Sansone a Villa Abate, a Terrasini ammazzarono Giuseppe Maniaci e qua, in questo paese, a San Giuseppe Iato, ammazzarono a Peppe Caiola. Poi ci fu la saggia di Portella della Ginessa, quando i morti furono undici e infine a Marsala ammazzarono Vito Pepetone. Ora... Ok, che tocca.